bag for information anche no e mi scusi ho un ho un scusate stavo leggendo il commento di ragfox pensavo stessi insultando il tipo seduto fogna beh allora lei dice scusate come si dice insomma qualcuno ti ha visto uscire da questa fogna questo gli ha detto e lei lui risponde non so di cosa lei stia parlando signorina no minaccia non prendermi per scema so che sei stato in quelle fogne dimmi come come ci sei entrato adesso bene lo stiamo minacciando e chi ti credi di essere non mi interessa quello che un qualche stronzo ha detto di me lady signora so che porti delle donne lì dentro e se vuoi lasciare questo bar con tutte le parti necessarie ad andare con un'altra donna in futuro ti suggerisco di cominciare a parlare allora lui dice che c'è una shrine non esattamente un tempio proprio un tempietto in quelle fogne e che lui va lì per fare cose e si allora ragfox commenta un tuoso e lurido lo è si è disgustoso forte coi deboli e poi caga sotto quando uno semplicemente alza la voce e non ricordo di averti chiesto cosa ci fai la sotto mi interessa sapere come ci arrivi comincia a parlare allora c'è un trucco per aprire la grata e vabbè ti spiega come fare devi girare una delle delle sbarre praticamente e poi entri insomma la dentro adesso lasciami in pace bene abbiamo professionalismo più meno cinque perché l'abbiamo minacciato e però abbiamo investigazione più cinque non sempre è possibile fare scelte buone cioè io potevo chiedere a lui informazione o potevo pregare lei per esempio comunque poi avrei dovuto parlare con lui ma se avessi parlato se avessi implorato informazioni avrei comunque perso professionalità perché beh detective che prega non è che quindi adesso possiamo entrare nelle fogne voglio riuscire a farvi vedere tutto fino a kamakura quindi andrò un pochino ho sbagliato andrò cercherò di andare un pochino un pochino più veloce andiamo altro commento ubimayor minor cesso esattamente ok perfetto quindi e questo è un gioco un po di atmosfera perché come vi dicevo la trama non è proprio di quella strabiliante che voi dite oh mio dio adesso devo sapere cosa succede questa cosa non me la sarei mai aspettata no è una trama che appena arriveremo a kamakura voi saprete già tutto di cosa starà succedendo di cosa succedere in futuro saprete anche alcuni dei finali li saprete già però diciamo l'atmosfera è abbastanza ben fatta quindi è un gioco che va goduto piano piano quando quindi insomma io dovrò saltare alcune cose ma fate conto che vivendolo in maniera un po più lenta e rilassata per quanto si possa vivere in maniera rilassata un videogioco dell'orrore è più bello ci si gode di più l'esperienza allora lei dice che qualcuno attaccato queste luci al soffitto nel nel vano tentativo di creare un'atmosfera intima in effetti però io le trovo grazioso in tutta sincerità quindi vabbè foto che è disgusto lei dice vedere questa foto probabilmente mi ha cacciato qualche anno di vita la foto è in in buone condizioni in sostanza e penso sia stata scattata recentemente cioè la sua faccia è esattamente come la mia quando ho visto questo foto la prima volta ho visto di disgusto e e costernazione e stupore proprio della saliva cof bot va bene la possiamo prendere caso mai dovessimo minacciare di nuovo quello stronzo non la possiamo prendere va bene andiamo avanti e cammina io dio cammina ok questo forse sangue no è sempre la vernice e quindi lei dice chiunque abbia visto questa cosa deve essere qui vicino una freccia sempre dipinta recentemente che ci invita ad andare giù questo è lo shrine il tempietto si lei si chiede cosa ci faccio questo questo archetto praticamente sacro dice forse chi quando hanno costruito la fogna non si sono sentiti di buttarla giù perché comunque e questo è una cosa sacra hanno pensato lasciamolo mi mi commenta mi commentano che ragfox commenta ha uno strano modo di intendere buono stato era rovinatissima sì in effetti secondo me intendeva dire che purtroppo si vedeva bene forse il tipo è così brutto che ha fatto spaccare la lente secondo me sì cioè l'ha fatto spaccare così tanto tempo fa che non aspetta allora mi sto scorrendo qualcosa ok non non possiamo scendere a no non possiamo scendere ok non possiamo scendere purtroppo non possiamo scendere non così possiamo prendere questa foto no va bene esci non possiamo scendere perché non posso non c'è una scala non possiamo lanciarci sotto ma ho un'idea di come fare purtroppo andiamo qua no più qua dai ferma beh ok forse sto sbagliando qualcosa no ho sbagliato la 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 non mi ricordo come si scende ecco vedete questo è il momento in cui uno non sa che fare gira 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 tutte le location nella speranza che eh di trovare qualcosa qua non possiamo aprire qua non possiamo aprire qua c'è sempre il castamento orrendo e proviamo a entrare qui no e ma come scendo scusate sì dai saltiamo questa cosa ecco questa è una cosa che io non sopporto in nessun videogioco ecco i pezzi non 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 saltabili cioè no per quanto sono carini allora ok forse dovevo farlo esaminare questo dice che ovviamente non può scendere a piedi oddio climb down ma non c'è io mi ricordo che c'è oh perfetto quindi allora lei ha preso la foto perché praticamente l'ha visto che lui ha una corda addosso e vuole andare a chiedergli sta corda in modo che possiamo scendere giù senza romperci una gamba purtroppo ci toccano queste schifezze se riesco a entrare in questo locale eh ho ragioni di credere ho ragione di credere che tu abbia una corda con te mi serve ah ancora tu pensavo di averti detto di lasciarmi in pace in ogni caso non ho non so cosa di che corda stai parlando lei non ho tempo per questo genere di cose gli fa vedere questa foto lui ovviamente lui dice che non è illegale quindi dice non mi puoi minacciare con questa foto perché non è illegale lei dice anche se nel tuo caso dovrebbe esserlo no non è illegale ma comunque entrare in una fogna per fare tutto ciò lo è e quindi questa questa foto è una prova abbastanza abbastanza convincente che ti mette insomma che dimostra che tu ci sei stato quindi insomma lui decide di darci la corda in cambio della ok immagino che per una scelta più professionale avremmo dovuto semplicemente arrampicarci sotto ma io non vedo perché dobbiamo spaccarci una gamba oh mio dio voglio saltare questo pezzo no non in questo senso ok andiamo use rope perfetto vai la 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 bug proviamo a uscire e a rientrare ed è strano sei bloccato tutto che è successo torna dentro vieni qua cammina oh allora questa corte è sottile e so che è stata usata ma è tutto quello che ho e quindi ho la vala spacca ci lanciamo ok vedete la tipica ragazzina pazzoide giapponese finalmente ho trovato Kazuki le sue mani erano legate e la sua testa era coperta da un sacco sporco di sangue ero arrivata insomma pronta a risolvere la situazione in fretta portare tutti a casa in salvo e tornare alla vita normale però i miei piani sono andati a donnine allegre il secondo nel momento in cui ho visto la faccia del suo rapitore era una faccia che conoscevo molto bene sei mesi prima in kamakura Kazuki e Ai l'avevamo incontrata in una in una situazione insomma con un ostaggio che era andata male e lei era morta gli occhi freddi e il sorriso schizzato che mi guardavano dalle ombre alla fine del tunnel appartenevano a una ragazza morta da sei mesi quindi rimasi congelata sul posto incapace di parlare mentre vedevo insomma l'impossibile deve essere un trucco questo era quello che il mio subconscio mi stava sussurrando continuamente bla 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 la ragazza non era sorpresa di vedermi infatti sembrava che il mio shock e la mia sorpresa fossero esattamente quello che aveva voluto che voleva insomma e il fatto rimaneva il fatto era che io ero da sola non avevo detto a Yukimura dove ero e non abbiamo parentesi e il gioco non ci ha dato neanche la possibilità di farlo chiusa parentesi e la vita di Tanaka era nelle sue mani era me e lei un detective solitario e una ragazza uscita da un incubo ok adesso abbiamo 20 secondi per fare qualcosa drop the knife polizia posa il il coltello dritta al punto neanche un ciao o un da quanto tempo Yami-chan è stato un bel po' di tempo dopo tutto non sto tirando fuori la mia arma quindi tu non hai bisogno della tua voglio soltanto parlare davvero ma che carina hai sentito Tanaka vuole parlare sì esatto possiamo risolvere la situazione possiamo trovare una soluzione e nessuno deve farsi male non ti preoccupare Tanaka ti tirerò fuori da qui Ito no dice lui vattene da qui per favore scappa dice lei vabbè potete vedere chi è che parla scusate questo hai detto abbastanza stai buono tranquillo finché noi ragazzi abbiamo finito di parlare beh avanti parla sto aspettando non è così facile quando il coltello è puntato su qualcuno che ti interessa invece che su una ragazza qualsiasi non ci casco tu non sei la stessa ragazza quella ragazza è morta oh lo è beh se l'avessi saputo mi avrebbe risparmiato un sacco di di guai continuo a guardare al mio coltello non ti piace ma è così carino nessuno deve farsi male no qualcuno si fa sempre male inoltre io non voglio fargli del male a Yami-chan no 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 io non ho mai voluto fare del male a Tanaka ma devo non capisci è l'unico modo le senti? voci sussurri è come a Kamakura no a Yami-chan ha funzionato avevo ragione adesso Tanaka sarà capace potrà venire con me to the dark nell'oscurità le cose saranno diverse questa volta mi guiderà a trovare la porta e tutto cambierà non sarò più sola e indovina cosa? buone notizie non ci servi più nessuno ha bisogno di una donna orrenda come te Tanaka dice che tu non mi odi che quello che hai fatto a Kamakura non era colpa tua ma io ma io non ci credo non ci casco in queste cose no 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 non voglio pensare a questo adesso non mi piace perdone non mi piace non mi piace non mi piace cambiamo argomento saluta Tanaka lui se ne viene con me posso fare qualcos'altro? allora la sua mente la nostra va in ogni direzione per cercare di trovare la spiegazione logica i vestiti i capelli i modi di fare erano tutti gli stessi ma comunque non ci credevo ma quando lei menzionò le voci le mie difese cominciarono a cedere non c'era nessun modo non c'era modo in cui lei avesse potuto sapere va bene lei non poteva sapere delle voci quando traduco il mio italiano e il mio inglese vanno un pochino a ambedue per i fatti loro l'avevo l'avevo seppellito nei miei rapporti le voci e io e Tanaka non ne avevamo parlato e cominciai ad accettare il fatto che la ragazza che avevo davanti era effettivamente la stessa ragazza mentre quando guardai l'uccichio della lama l'odore dei dei aiuto dei fiori di ciliegio cominciò a mischiarsi con la puzza delle fogne il mio ordine di posare il coltello le aveva solo fatto stringere la la presa più forte praticamente e lei l'aveva portata ancora più vicino alla gola di Kazuki se lo volevo tenere al sicuro dovevo pensare a qualcosa velocemente chiediamole di Kamakura come fai a essere qui? a Kamakura io io mi hai uccisa? no non è andata così io cercavo di Ayami non c'è nulla che tu possa fare so che è confuso che la cosa ti confonde che sei confusa ma te ne devi andare devi scappare è la tua unica chance di andartene da qui di andartene da tutto questo intende lui oh tu fai il bravo bambino e stai zitto sai sembra quasi che ti dispiaccia della cosa quasi tutto quello che volevo in Kamakura era la maschera ma tu me la stavi nascondendo l'ho cercata per così tanto tempo a Yamijan in così tanti templi non sono sicura che The Shrine sia tempio ma in questo momento non mi viene un aggettivo migliore poi è arrivato Tanaka non mi ha guardato come se fossi un specchio di animale selvaggio come tutti gli altri no 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 non il mio Tanaka lui voleva aiutarmi aiutarmi davvero e io quasi creduto che l'avrebbe fatto prima che che fossi arrivata tu prima che arrivassi tu beh poi sappiamo tutti quanti cosa è successo dopo no? mi sono risvegliata nell'oscurità di nuovo posso ancora sentirla mi fa male Ayami mi fa male così tanto ero così vicina a cambiare tutto ma tu me l'hai portato via mi chiedo perché qualcuno così gentile come Tanaka possa stare con qualcuno così orribile come te questa ragazza mi fa morire in un certo senso lo so che dovrebbe farmi inquietare però in verità mi fa tenerezza perché poverina quindi sono andata a cercare lui invece lui mi ha persino dato la maschera cosa? non mi credi? a lui non interessa di te ricordi? lui vuole aiutare me ma la maschera non si voleva risvegliare non come ha fatto in Kamakura e non funzionerà se non è sveglia oh Maya mi ha funzionato oh tutti mi dicono sempre che sono una stupida ma guarda guarda adesso Tanaka e io staremo insieme per sempre e io troverò finalmente la porta ma prima di tutto devo mandarlo laggiù mi dispiace Tanaka è l'unico modo in cui puoi aiutarmi voglio che tu mi aiuti per favore hai promesso e tu Ayamijan tu puoi guardare ma che gentile posso fare qualcos'altro? anche se nulla di tutto ciò aveva senso al tempo la ragazza credeva veramente ad ogni parola che aveva detto quando parlava di Kazuki i suoi occhi si aprivano come se realmente credesse che lui era il suo salvatore la situazione stava deteriorando e la sua pressa sul coltello non si era allentata neanche di un po' dovevo continuare a farla parlare e ci sto provando oh mio dio oh mio dio oh mio dio let me help you proviamo scusate un attimo non so come fai a essere qui praticamente ma è ancora possibile salvarti lei non mi risponde perché secondo me sta pensando che sono una cretina comunque tu vuoi aiuto ok ho capito so scusate quindi lascia che ti aiuti stai zitta stai zitta a te non importa di me a nessuno importa di me per tutta la mia vita la gente mi ha detto che voleva aiutarmi che volevano amarmi ed è sempre stata una bugia non è una bugia sei malata e se tu lasci che ti aiuti no fai silenzio Tanaka Tanaka anche Tanaka ha detto questa cosa prima no allora all'epoca al tempo insomma parla di semi ci fa ha detto che non era reale che avrebbe potuto fare andare bene tutto quanto che sarebbe andato tutto bene si sbagliava io non sono malata guardati attorno Yamichan guarda a me mi vedi non è vero pensi ancora che io sia malata perché stai facendo questa cosa perché te l'ho detto perché sei davvero stupida no Yamichan ogni giorno è lo stesso è lo stesso è lo stesso ma adesso Tanaka qui con me è come una nuova avventura l'oscurità si comporterà bene con lui e con la maschera quando lui e la maschera saranno lì dentro nell'oscurità stessa e poi possiamo cominciare a cercare la porta e quando la troveremo tutti oh ma stupida egoista Yamichan tu puoi sapere perché ti ho portato qui tu sei qui solo per svegliarla pensi di essere l'eroe l'eroina che salverai la giornata sbagliato te lo dimostrerò stai là ti mostrerò ti mostrerò esattamente quello che Tanaka pensa di te come Kazuki non grido mai per chiedere aiuto non protesto mai era come se lui sapesse cosa sarebbe successo fin dall'inizio con nonchalance praticamente non mi viene un termine migliore come se l'avesse fatto centinaia di altre volte prima lei passò il coltello sulla sua gola sanità meno 5 ovviamente ecco qua benissimo sei mesi prima